Musica Buona serata a tutti voi e benvenuti a un nuovo appuntamento con l'informazione locale. La Polizia e i Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica Milanese presso il Tribunale e la Procura dei Minorenni, hanno eseguito due ordinanze cautelari nei confronti di 11 persone, tra le quali figurano due noti Trapper, Simba Larou e Baby Gang, accusati di rissa, lesioni, rapina aggravata e porta abusivo di arma da sparo. È già la seconda volta quest'anno che i due artisti finiscono nei guai. Questa volta sono ritenuti responsabili di aver partecipato ad un agguato lo scorso 3 luglio in Via Alessio de Tocqueville, in cui dopo calce e pugni sono stati anche esplosi dei colpi di pistola. Vittime dell'aggressione, due ragazzi originari del Senegal, brutalmente picchiati e gambizzati. I due Trapper sarebbero stati riconosciuti dagli aggrediti e da alcuni testimoni, le cui dichiarazioni sarebbero confermate dall'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Frana nella notte, poco sopra Lecco, all'imbocco della Valsassina, alcuni grossi macigni, circa una decina, si sono staccati dal monte Due Mani, rotolando fino a valle e sfiorando alcune abitazioni di Ballabio. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono rimaste a presidiare la zona di Via Valderia e per precauzione è stata disposta l'evacuazione di 19 persone residenti nei pressi dello smottamento. Stamane sono stati effettuati dei sopralluoghi e la fessurazione delle rocce ha consigliato ulteriore prudenza in attesa di interventi risolutori, che potrebbero anche essere particolarmente complessi ed onerosi. Per fortuna nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni materiali alle case, ma il rischio di ulteriori distacchi permane. Le ricerche dell'anziano scomparso il 24 settembre da Lainate proseguono senza sosta. Questa mattina i sommozzatori dei Vigili del Fuoco si sono immersi nel tratto di canale Villoresi che attraversa Garbagnate milanese. Per esaminare il fondale, il livello dell'acqua che scorre nel canale è stato abbassato e gli operatori hanno concentrato le ricerche in prossimità della località detta Cinque Bocche. Angelo Rezzonico, 94 anni, al momento della scomparsa, indossava, lo ricordiamo, una camicia a quadretti felpata e dei lunghi pantaloni scuri. Si era allontanato a piedi da casa in zona via Marche a Lainate senza portare con sé né documenti né cellulare. Nei giorni scorsi è stato anche lanciato un appello per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'anziano anche attraverso la raccolta di immagini dei sistemi di videosorveglianza. Era stato fatto alzare in volo anche un elicottero che aveva sorvolato a lungo la zona est di Garbagnate tra la strada Varesina e il Villoresi, ma per ora senza esito. Attimi di terrore la scorsa notte sull'autostrada A26 dove un tir con targhia della Repubblica cieca viaggiava a contromano nei pressi del comune di Castelletto d'Orba in provincia di Alessandria. Prima che si potessero verificare incidenti, due equipaggi della sottosezione della Polizia Stradale di Ovada avevano notato da lontano nei pressi del chilometro 37 più 800 sulla A26 Nord la presenza di luci attribuibili ai fari di un mezzo pesante che si avvicinava viaggiando pericolosamente nel senso di marcia opposto e percorrendo la corsia di sorpasso. La Polizia è riuscita a fermare il camione e a condurlo sulla corsia d'emergenza mettendo subito in sicurezza la circolazione stradale e informando il centro operativo della Stradale di Genova che ha così predisposto la chiusura di alcuni svincoli e l'intervento di una safety car che ha guidato poi il tir fino ad un parcheggio consentendo all'autista di fare manovra e rientrare in autostrada nel senso di marcia corretto. Importante operazione della Guardia di Finanza contro la pirateria digitale a seguito di una denuncia presentata dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto di Milano Fusco e dal pubblico ministero Scalas hanno scoperto un sistema illecito che permetteva ad almeno 430.000 utenti di avere accesso ai contenuti a pagamento di quotidiani, riviste, palinsesti e serie TV senza sborsare un euro attraverso l'utilizzo di più di 500 canali Telegram. Otto le persone denunciate in tutto, residenti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Campania indiziate di essere gli amministratori dei canali social che diffondevano prodotti editoriali protetti dal diritto d'autore. Il lecito fruttava agli indagati i cospicui guadagni grazie al meccanismo di affiliazione di partner di e-commerce che pubblicavano il loro link nelle chat e alle sponsorizzazioni con banner pubblicitari inserite nei canali dietro versamento di somme di denaro. La magistratura si occuperà ora di verificare anche le eventuali responsabilità degli utenti che hanno utilizzato il sistema illegale per leggere i giornali e guardare serie e altri contenuti TV gratis. Un percorso condiviso e di collaborazione fra primo, secondo e terzo settore per la responsabilità sociale, ambientale ed economica del territorio. Fondazione Aurea ha dato il via ufficiale al Festival Nazionale dell'Economia Sociale e della Transizione Ecologica e lo ha fatto l'altra sera all'auditorio Anpaccagnini di Castano Primo con l'incontro inaugurale Impresa, Economia Sociale e Sostenibilità un confronto sulle grandi sfide che ci aspettano. Diversi e relatori presenti, ecco il servizio con anche l'intervista al presidente di Fondazione Aurea Emanuele Albertario. Primo, secondo e terzo settore, l'obiettivo è quello di creare un percorso condiviso e di collaborazione per la responsabilità sociale, ambientale ed economica del territorio. Il Festival Nazionale dell'Economia Sociale e della Transizione Ecologica promosso da Fondazione Aurea ha aperto ufficialmente i battenti e lo ha fatto l'altra sera l'auditorio Anpaccagnini con l'incontro Impresa, Economia Sociale e Sostenibilità un confronto sulle grandi sfide che ci aspettano. La scelta di portare il Festival Nazionale dell'Economia Sociale e della Transizione Ecologica nasce proprio dall'esigenza di parlare di quelle che sono tematiche attuali. Da una parte portare al centro l'individuo rispetto a quello che è una tematica economica che abbia quindi un riscontro di creazione di valore non solo economico ma anche sociale e dall'altra parte, ma è come adesso, è importante parlare di quella che è la tematica della transizione ecologica rispetto a quelle che sono tutta una serie di iniziative che si possono prendere sia a livello personale che a livello aziendale, a livello sistemico per andare incontro rispetto a quelle che sono le esigenze del pianeta. Diversi alla fine i relatori presenti, Ferruccio De Bortoli, l'assessore regionale Davide Caparini, il consigliere di Regione Lombardia Pietro Bussolati, Stefano Caselli e Oliviero Pulcini. Un momento insomma di confronto, analisi e riflessione tra presente e futuro. Siamo felicissimi di aver avuto sul palco le personalità di livello rispetto a quello che è la tematica affrontata un ringraziamento speciale al professor Caselli e al dottor De Bortoli per aver scelto e aver accettato il nostro invito a partecipare Siamo contenti, siamo contenti di iniziare questo percorso, si svilupperà poi il 13 di ottobre andando a parlare di quella che è la tematica sociale e si concluderà il 23 di ottobre rispetto a quella che è la tematica della sostenibilità ecologica. Siamo qui per questo e siamo felicissimi per la partecipazione che ha riscontrato la nostra proposta. Prosegue nella piazza di Regione l'appuntamento con Lombardia e dei giovani evento dedicato fino a sabato sera alle nuove generazioni. Oggi la visita del Presidente Attilio Fontana. Vediamo. Credo che la cosa importante sia quella di riuscire a dare gli spazi, le possibilità anche agli enti locali di poter interagire con Regione Lombardia per fare in modo che si riescano a porre in essere tutte quelle iniziative che consentano ai giovani di avere più spazi, di avere la possibilità di fare scelte per il loro futuro più opportune e più coscienti. Credo che mettere al centro delle politiche i giovani sia un dovere, un dovere che deriva anche dal fatto che comunque all'interno del PNRR si sta delineando il futuro del nostro Paese. Quindi è ovvio che i giovani devono essere protagonisti anche in queste scelte. È chiaro che saranno le proposte che verranno fatte nel nuovo governo. Adesso bisogna aspettare che il nuovo governo si costituisca e poi sarà sicuramente un argomento che sarà posto all'attenzione del governo. Ammirare e vivere la cultura in ogni sua forma per valorizzarne le bellezze in un territorio ricco di storia e tradizioni. Con questo spirito sono state presentate le novità principali di Bergamo e Brescia, capitali italiani della cultura 2023, in vista dell'inaugurazione simultanea nei due centri prevista il prossimo 20 gennaio. 92 i progetti che sono stati selezionati da Fondazione Cariplo e dalle fondazioni di comunità locali di Bergamo e Brescia. Vediamo. Il programma della manifestazione si compone di 100 grandi progetti ai quali si affiancheranno altre 500 attività che prenderanno corpo nel corso dell'anno grazie all'iniziativa di tante realtà sul territorio di Bergamo e Brescia. Tra questi 92 progetti finanziati per 3,5 milioni di euro da Fondazione Cariplo insieme alle fondazioni di comunità di Bergamo e Brescia per la promozione culturale delle realtà locali. Io sono convinto che quello che è successo in questo paese nel Rinascimento, quello che è successo nei grandi momenti che hanno segnato la storia culturale di questo paese sia alle radici di quello che siamo oggi e di quello che possiamo essere domani. Più la cultura è un'opportunità diffusa, più va a intercettare dei talenti, più diventa un elemento di attrazione ai territori che attrae persone che hanno sensibilità e voglia di essere creativi e che offre alle persone vivono in quel territorio la possibilità di sviluppare la propria creatività, la propria volontà e il proprio talento. Allora la cultura in questi termini è un'occasione immediata di attrazione e di creazione di valore economico, ma anche un'occasione per avere un sistema istituzionale, un sistema culturale, un sistema economico più florido nel futuro, perché le persone possono mettere in campo di più in quel sistema, perché possiamo attrarre persone con più talento. Prima di salutarci vi invito a seguire domenica sera alle 20.30 sul nostro canale la nuova puntata del magazine Super Trooper, condotto da Marco Ciapparelli, una vera e propria agenda per spettacoli ed eventi di tutto l'alto milanese e non soltanto, con tanti ospiti e approfondimenti in studio. Io invece vi saluto per quanto riguarda questa edizione e questa settimana, dandovi l'appuntamento a lunedì sera, sempre sul canale 79 del Digitale Terrestre e sempre alla stessa ora per una nuova edizione del nostro appuntamento con l'informazione dalla Lombardia. Buona serata e buon fine settimana.